Questo è l'antiquarium, questo pezzo qua, lo considero solo questa piazzettina, anche questa qua, più a destra, e qui alle nostre spalle c'è il museo, dove ci sono dei resti, anche pezzi di vaso e cose del genere che hanno trovato a Milano, ogni tanto scavano e escono fuori queste cose e loro le portano lì. Adesso, in quella porticina là, entriamo e vediamo il...